Ciao ragazze Oggi mi è arrivato Il terzo Ormai ordine Che ho fatto da Modestforium Non mi ricordo se è il terzo o il quarto È un ordine piccolino A breve me ne arriverà un altro un po' più grosso Che poi vi mostrerò Adesso andiamo a vedere questo Devo dire che Ste chiusure che basta rigirare sta cosa E sono già aperte Strano che non abbiano ancora rubato nulla Uh che carino Sto sacchetto Non lo voglio Estrappare perché è carinissimo Scoccio ovunque Ce la posso fare? Guardate che bello Questo sacchettino A posto Allora Qui c'è Il bigliettino Di Modestforium Aspettate che Guardate che belli Io li adoro Io li adoro Aspettate vi faccio vedere così Che carini Tutti sbarluccicosi Oddio sono bellissimi Non vedo l'ora di usarli Nella resina Poi c'è Poi c'è Questa Questa Che la devo usare Per fare gli stampini Ombra Così si vede No Lascio perdere Così Che carina Poi Il biscottino Dov'è che si apre Qua? Qui Ho notato che Stavolta non mi hanno inviato L'omaggio Strano C'è scritto che Per ogni ordine C'era Un omaggio Ma Oh ma non riesco a aprirlo Vabbè Non riesco a aprirlo Biscottino Ah sì Mi si adoro Guardate che belli Sono coprimati Ide Questo riesco a aprirlo Non capisco Ha messo Ah Ah Gli hanno messo lo scotch Ecco Perché L'ho di scoprire Sono i dentini che Aspetta Dov'è? Ah C'è troppo sole Uffa Sono i dentini Che si cariano Questo è un po' cariato Infatti c'è la faccina triste Aspettate Adesso mi sposto all'ombra Così Ecco qua Dovrebbero vedersi meglio Eccoli Venite in mano Così Beh sì Essendo azzurrini chiari Non si vede tanto bene La faccina Un po' così Che belli Stanno per l'omaggio Perché appunto Di solito Lo mandano Non c'è Lo mandano in tutti Ci si è rimasto male Speravo ci fosse A meno che Essendo aperto No vabbè Era dentro lo sacchetto Non posso Non averlo fregato Vabbè Saranno dimenticato Vabbè Non importa Dai Vediamo Col prossimo ordine Che è gigante Sono tipo 40 euro Di roba Compreso l'espedizione Quindi spero che Almeno lì ci sia Dai Immagino Uff Mi ero affezionata Ed ecco tape Che inviavano Tutte le volte Vabbè Niente Questo è Tutto quello Che ho preso Come vedete Non è tantissimo Però ho bisogno Di questi Per fare gli stampini Questi qua Mi piacciono un sacco Nell'altro ordine Gli ho presi anche gialli Gli stickers Ovviamente Io sono innamorata Di questi stickers E nulla Questo è quanto E niente Vi saluto E vi mando un bacione Ciao ciao